Ok Siamo pronti per questa nuova fantastica puntata di Left 4 Dead 2 E Luis ha gli attacchi epilettici E Luis ha gli attacchi epilettici No 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 Perché io lo ingiamo Indy, sai come funziona sta mappa? Crash Bandicoat, si? Si, si Ok, allora la prima mappa è il livello nelle fogne Quindi è sempre dritto Ogni tanto spawnano zombie da sopra Ok? Ok Quindi guarda da sopra Dobbiamo stare attento anche perché è tipo abbastanza Abbastanza piccolo Dobbiamo stare lì proprio Sì, sì, il tank è basta E poi dobbiamo E poi ci sono Sì, andiamo Assicuratevi Assicuratevi di prendere un medikit Assicuratevi di prendere un medikit È vero, prendete il medikit E le armi e le armi qua Prendete le armi Scusate Allora Allora vi spiego Appena spawniamo La stanza potrebbe già avere degli infetti speciali Quindi guardate intorno Davanti Davanti alle scatole Quindi è pronto a sparare E poi c'è una zona con il tank Che è molto difficile Attenzione Andiamo 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 Ok non ce ne sono Non hanno fatto il maledetto Possiamo proseguire Andiamo Andiamo Tutti uniti Tutti uniti Mi raccomando Nessuno si deve separare Uno dietro Uno davanti Controliate sempre Io controllo dietro Sì, sì, sì Voi andate controllo dietro Qua sparano da sopra State attenti Qua sparano da sopra Potrebbe restare ci smoker Da sopra State attenti Occhio a l'acqua elettrica Oh, quello è vicino Oh, qua c'è un cecchino E un rifle Se volete prendere il rifle Oh, boom, boom Cavolo, cavolo No, giochi davanti Sparate avanti, sparate avanti Mastro No, cavolo Mi ha preso un hunter Mi ha preso un hunter La dritto Dritto davanti, davanti, davanti Cacchio No, 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 no C'è il giochi C'è il giochi Aiuto, aiuto Capendo, faccio, faccio, faccio Sono troppo zombie Ok, no, mi sta per uccidere Ok Occhio, anche adesso C'è la spiattura C'è la spiattura C'è la spiattura Ok, vai, vai, vai Prendo fucile da cecchino Prende le pillole Prende le pillole Diamine, quel boomer Ha fatto più danni che non Ok, ok, ok Smocco in game Dietro, c'è Arger Arger Ok, buona Riuscite a coprire? Sì, vai, vai, vai Cura ti aiuto Perché sei in rosso No, no, no C'ho la pillola C'ho le pillole C'ho le pillole Aspettiamo un attimo Magari trovo Deve la adrenalina Qua dovete mirare Dovete mirare queste Scegliete medikit Prendi il medikit Prendete la roba Qua possono sparare Sopra Che sopra c'è un boomer Mi sa State lontani dal buco Vedete le granate Ok, venite avanti Loren, viene avanti Aspetta Mi date un attimo C'è la molotov qua C'è la molotov Eh, vedi che l'ho visto Ok, ok L'hai presa la molotov Sì, sì, l'ho presa L'ho presa anch'io Guardo dietro io Sì, sì Smoker Dove? Non lo so Smoker qua Ander L'abbiamo dietro Nice, nice, nice Dietro no, dietro no AK qua AK qua AK qua Mi cura, mi cura Mi cura Prendete la K, sì Dov'è la K? Era lì a sinistra La K è molto forte Prendo io Prendi il paio È a sinistra, sinistra Andiamo, andiamo L's go, l's go, l's go Tanto qua non è L's go, l's go Non perdiamo 5 c'è Charger dietro Ok, buono Ah, era Pug Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Parfonti Maciulliamo sti zambo Occhio a non entrare dentro gli altri Ricordate ragazzi L'AK one shot alla testa La maggior parte degli effetti Quindi via Ok, ok Ok, scusi Senti pronti per il tank Facciamo fuori tutti gli zombie Prima Ok, io c'ho la molotov Io ho la molotov Quindi la lancio Ah, la nice Oh, smoker, smoker, smoker Snooker Dove, 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 dietro? Davanti, davanti, davanti Non vedo nulla Oh, ecco Ok, buono Ok, buono Ok, buono Ok, buono Ok, buono C'è preso tutti e quattro Hunter 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 Tranquillo 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 Antiquiamo il boss Vai Spaccate il tank Sparate al tank Spitter Ucciso Sparate il tank No il boomer Ha preso l'indy Non vedo nulla Non vedo niente Sparare prendete il fucile che sta al centro della forma Mastro rimani rimane a guardare nel caso è appunto Ok vai Io sto rinno Io devo curare Ok la parte più difficile La parte più difficile l'abbiamo fatta Ok riprendiamo la k E io prendo il def Prendete la k le munizioni e andiamo 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 Ok via 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 Ci sono le scale qua Sono le scale qua Ci sono delle scale di Half-Life Senti Allontanati Allontanati La tiene chi Io non te lo puoi Ti sento Boomer Ti sento Pillole da qualche parte No io te l'ho insommessi Qualcuno che ha pillole Ci sono fucile a pompa con sotto Occhio Di cose che fanno un sacco di male No chi mi ha preso Ok Ok tranquillo Dobbiamo scendere qua mi pare Sì sì Pillole 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 Ok No sei indietro Senti indietro Senti indietro Ah danazione Uh Indy non ti allontanare Indy non ti allontanare No 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 C'è 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 Devo ricaricare Ok È tutto la tua Il negozio Prendiamo qualcosa dal negozio Vediamo Cosa volete Medica per me Non c'è Non c'è laser Prendo questo Prendete il laser Oh il laser OP Il laser OP No ho preso Ho preso quella sbagliata Ok Ah io prendo il vitro Oh pillole 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 Qua Ok Io sto per finire i colpi eh Quindi Occhio al boomer Spitter 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 C'è un boomer la fianco L'ho sentito Aspettate prima di andare Ok buono Vado vado io Vado io Vado io Vado io Ah mi ha preso Ok Buono Dobbiamo tornassù Dobbiamo tornassù Dobbiamo anche il defibrillatore Però ci fa perdere il punto Ce l'ho io Vai 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 Se siamo vicini vicine all'uscita Non utilizziamolo Siamo a un Tre quarti siamo Qua ci sono pillole Se salto da tutto Qua pillole se volete Andiamo 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 No guarda che magari si fanno la Salto attenti sempre dietro Si c'è loro da dietro Occhio al boomer E lo smoker Ah fuck Anche lo spitter Charger Non ho avuto nulla Ah Ha fatto fuori Aia aia Gu 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 No sono a terra Vabbè che cosa abbiamo così fatto Abbiamo così fatto Credi di aver fackpato Si ho fackpato Oh no No tanto Ok ok Difendetemi che tiro su Indy Saliamo le scale prima Saliamo le scale No occhio boomer Ma cosa Fuck 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 Salite le scale Salite le scale Salite le scale Ciao no Sono zombie Mi libero la strada Vai salite salite Occhio sotto Ah Ah te la tu sonni Smesso No 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 Aspetta aspetta Ok vai 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 Ah cavolo c'è uno speciale qua Si Ah da cacchio Ok 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 Non so come funziona ma va bene Io non ci siamo arrivati Chirule è qualcuno delle chirule Io qua 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 tu sei No Sono davanti No Oh l'ha data qualcuno L'ha data Mastro Mastro mangia Mastro Mediti Prendetelo voi Prendetelo voi Ok prendetelo voi Ma che cazzo Ma dai ma perché me l'hai fatti esplodere Mastro Non ho sbagliato Non ho sbagliato a sinistra Ho venuto sinistra Fri che a destra Manganello qui Anzi non specco proiettili Ho di chitarra C'è un charger C'è un charger C'è un charger Ho sentito Ok buono ho fatto fuori Andiamo 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 Danger Per M4 però Oh i pezzi cadono I pezzi cadono I pezzi cadono Bigu dead platform Bigu dead platform In guys Sì ma tanto non morite se cadete Tornate all'inizio però Ok 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 l'hunter Oh è caduto l'hunter Andate 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 Pià Tentine È caduto l'hunter C'era l'hunter dietro ma è caduto Guardate Guardate Prova Prova Ah 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 Ok Ok Prova il cadere Oh no Oh no Qua c'è l'invasione finale Qua ci abbiamo Il controllo dietro Ho tornato indietro Preso Bene 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 Bravo Andiamo Ok Gigi ragazzi Vedere quanto riusciamo a farli fuori accendo la luce un attimo io Quanto danno gli facciamo adesso ok ai sacchi il boomer in deal spitter master il Sì si può fare ma devi essere veloce perché appena spawnano subito possono spararti Ok allora spawn immediatamente ah sì appena potete spawnate così li facciamo ecco appena appaiono potete spawnare Ok pronti e india ancora fk e hunter se vuoi venire anche te tanto aspettate che esplodo aspettate che esplodo prima Attacchiamo quelli che non sono pronti Siete pronti tenti pronto abbassato Mi hanno ucciso Graffialo graffialo vai vai Fanno capandato fanno capandato Fanno capa già terra ma non iniziate senza di me Non avevo non abbiamo già atterrato uno Si deve già curare perfetto sono il boomer Aspetta eh vai loren si Ok io invece sto buono Io provo ad andare un po' avanti Come salgo di qua? Di qua? Si ok Hunter No sono Aspetta ho un'idea ho un'idea Dai io ce la posso fare dai su Ma cosa sta facendo? Dai boomer ce la puoi fare non spawnare però fin Uno due tre Ottimo 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 Piliamo quello verde E Ho preso Iagos E quello verde tra l'altro Gli ho finito per un bel po' No ottimo ottimo Bella lì ragazzi Bella lì Vai 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 Abbiamo già fatto molti danni Leo e Iagos sono da buttare giù Tag è quello più in piedi Adesso per fargli tag Ho il giochi 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 Ho l'acqua elettrica Secondo me posso farlo l'infamata Si si Fai il giochi Non è che puoi fare Fai Fili puoi spingere in acqua Mi fai danno Eh due presi Due presi Vieni con No C'è uno Porche Ok ok Faccio io a Leo Ok fai quasi a terra یں Non ha il mail kit però Quindi ho C'è tag Vole L'unico Con il mail kit E sono tutti quanti Con meno di metà vita Ok Bersagliamo Babbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabb�� drive e coach e coach ok vai vai facciamo fuori io faccio fuori tag adesso c'è può essere solo un coach gaming si può salire qua sopra no ma scusa che hanno preso stanno andando avanti iago stanno andando non hanno preso i medici dal del coso del shop e danni 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 e lo bloccati lo blocco di affermazione ne ho atterrato uno tag a terra tag a terra leo a terra morti sto tentando di sponare ok ok ragazzi mi hanno ucciso prima che sarebbero iagos a noi iagos aveva medica posso salire fa che non può salire aspetta che non è che sono boomer a speglia di volo di volo da sopra adesso no o no o no o no se mi aspettavi a cavolo potete dirmelo e te l'ho detto l'ho sentito ma se non mi senti non mi fatti ok ho atterrato 2 da mio famiglio guadagnarti orbo tag disorganizzazione veramente fa anche per l'ultima vita no ok l'ultima vita se lo rialzano muore è al tank ci sono medica perché non ci sono medica sono il boomer o però sono arrivati al tank però sono per morire mi sa che al tank list andiamo a meno che non succeda qualcosa non hanno salva di sopra l'attacco da sopra devo sponare anch'io datemi due secondi india aspettate ok vai ok ma non si può non c'è niente qua sotto pronti pronti io parto non appena il tank spawna così pronti attivano appena attivano e ho ucciso leo nice no non spinto nello spinto preso tag e che 3 diventa il tecno chi diventa ai loro ci vuole nemmeno il tank ora entra il loro in tank adesso arriva e no ma la ruggers chi ha più da più già ti spavano come il conto vai nono zone che cosa dice tag ci serve tipo la live della live non siamo ancora salvia non siamo ancora salvi però siamo altri due mappe così e siamo salvi c'è 839 voglia ok ricordatevi i medici non entrati dentro mappa questa mappa qual è questa è larga prendete l'uzzi lo giugno 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 le armi anche attenti a tempi simile tende che lì ci si siano scontri bastardi ssg ok vai vai prendiamo questo vai anche se no o dietro c'è il charger no no contro il solito memoretti perché il giugno no 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 non vi prende occhio giugno che spitter peter grazie come tipo guarda che quelli che ho preso sono bravi prende fun cup va bene fun cup ottima scelta veramente ma no povero cucciolo dai deve solo imparare un pochettino giocare la prossima volta imparerà capo no non è più forte della cappa però è ancora un cecchino diventare un cecchino c'è lm 14 14 abbiamo giochi dietro lo sentito un smoker ho sentito la lingua dello smoker se lo sentono sento che occhio al giochi ho visto un giochi dietro scusa vabbè dai andiamo andiamo smoker dietro quella tenda a destra e spitter anche ho ucciso la spitta vado io vado io vado io vado io eh vabbè eh vabbè mastro però anche ta chi aveva lsg ma c'è l'ho io c'è l'ho io c'ero aiuto 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 ok qui l'hanno giocata bene qua l'hanno giocata bene ma non abbastanza lino ma aspettavo il ok non mi aspettavo che c'era un po di caos quando un boomer c'è attaccava era finita dopo c'è la boss fight che è mai no dobbiamo sfruttare le cazze giusto mi mi curo e prendo il medico ogni tanto ci sono delle cazzine che blocca nei giocatori ma gli npc possono ancora facciamo a sì è vero come avevo fatto ok ok devo spiegare un proiettorne ok 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 vado attivare il bottone se ce la faccio andrà morto e c'è un negozio da smoker dietro smoker dietro sorry allora prendiamo qualcosa nel negozio prendere magari i miei soldi laser laser armi laser munizioni esplosive laser 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 laser… laser e… laser e… AHHHHHHHHHH e' ero sottetto a difendermi c'era un hunter si 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 hunter aspetta aspetta ok attenzione le cazzo in di nuovo aspetta che prendo il mirino vado a prendere anche il laser perché ho cambiato SSG ok opposto i presi anche una deagle tanto però e' qui c'ho delle pillole per chi vuole Vai vicino e guarda il negozio C'è molto realtà di interessanti Che non ci posso servire Oh no ho sbagliato Speriamo ci dia un po' di tempo Se ci grabbavano qui eravamo finiti Ricordatevi Se qualcuno attiva il coso Attaccatevi Il problema è capire quando Quando si avvicinano Sembrano degli uomini di Roblox Il low poly è low poly Non andate C'è il muro visibile Non c'è il muro visibile Allora pigliate la roba Non so se prendere il fucil Dice prisione oppure Vabbè qua prendete Prendo la moto qui invece Ok buono Ci siamo tutti quanti Sento qualcosa che non mi piace Qua è difficile Attenti agli angoli che ci sono le witch Non aggiratele Oh mercoledì Giochi 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 Ok Ok cazzo qui c'è un po' di donna Prendi apprendi apprendi prima di andare avanti No Scusate Ci sono le munizioni al centro Prima solo E l'ha mancato Non toccate le witch Sì Quelle sono pericolose E saremo bene Spariamo direttamente a quegli zombie che stanno laggiù Lancia una molotov laggiù eh Quando si apre Occhio all'hunter Ok Ok Occhio alle witch Vedo uno speeder Giochi Ah sta usando la mia stessa tattica Sta usando la stessa tattica quel giochi C'è un altro charger No ma c'è la witch là davanti Che cavolo Occhio Occhio dietro Zitto No 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 Ho sparato la witch Ho sparato la witch No 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 Non so No La witch No la witch Aiutami qua Aiutami qua Aiutami qua No No Cavolo no Ho sbagliato a sparare la witch Oddio Ok non dobbiamo farla arrivare qua No 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 non è che non dobbiamo Ah l'avevamo battuto Dai la witch Vabbè dai Andate come è andato Grazie a tutti